Stiamo per assistere a quella che sarà l'ultima eruzione del vulcano del Mirage. L'ultima in maniera definitiva, poiché nei prossimi giorni verrà abbatturata l'intera struttura, una struttura che è in piedi dal 1989. Il primo hotel di 3.000 camere, di tre torri di queste dimensioni, il primo a essere stato costruito sulla Strip di Las Vegas, oggi erutterà per l'ultima volta. A nulla sono servite le oltre 8.200 firme raccolte dai cittadini americani che hanno dichiarato che abbattere il vulcano del Mirage qui di Las Vegas sarebbe come abbattere la Statua della Libertà a New York. Ebbene, questa sera è l'ultima eruzione del vulcano Mirage.